Oggi Cecilia ha visto la luna. L'aveva già vista una settimana fa, ma stasera c'è qualcosa di sbagliato. Mamma, una otta, dice con preoccupazione. Cosa, amore? Ah sì, amore, è rotta. Ma la luna fa così. Si rompe, poi si aggiusta. Basta trovare gli altri pezzi. Cecilia non è molto convinta. In più, avendo già due anni, ha cominciato a capire che la mamma non ha sempre ragione. Ma lascia cadere l'argomento. Non vuole metterla a disagio. Evidentemente la mamma riguarda la luna. Non se ne intende. Certo si vede ad occhio nudo. Qualcuno ha preso la luna che prima era un piccolo cerchio perfetto. Era spezzata in due. Certamente non ha fatto apposta, pensa Cecilia. Ma quando si maneggia una cosa di tutti come la luna, bisognerebbe fare più attenzione. Comunque a Cecilia trovare il colpevole non interessa. La priorità è far tornare intera la luna, sempre che la mamma abbia ragione e si possa davvero aggiustare. Per ora, meglio dormirci sopra. Come mai stai lì seduta? Le chiede il papà al mattino dopo. È una così bella giornata di sole. Chissà cosa sarà questa ossessione per il sole, pensa Cecilia. Tanto non si può neanche guardare. Petto una. Così la mamma gli spiega che ieri la luna era rotta e che Cecilia sta cercando una soluzione. Finalmente è sera e la luna fa capolino in un cielo ancora azzurro. Oh, sempre rotta, si dispiace Cecilia. Certo, dice il papà. Tocca a noi aggiustarla. Così, quando fa buio, allunga la mano verso il cielo e ferra un puntino luminoso. Lo tiene così stretto fra le dita che non si vede più. Stella, grida Cecilia eccitata. No, piccola, è un pezzetto di luna. Ora lo sistemo sotto la terra in questo vaso di fiori. Così, durante la notte, crescerà un raggio di luce. La luna lo vedrà e verrà a prenderselo. Durante la notte Cecilia sogna un lunghissimo ramo dorato che dal vaso di fiori corre fino in cielo. E' così eccitata l'idea di vedere l'una che sia giusta e che giorno dopo chiede la mamma insegnarle a farsi dire dell'orologio quando sono le sei di sera. Lo guarda mille volte, aspettando che le lancette siano messe come ne è stato spiegato. Poi corre fuori a guardare la luna. Uffa, è ancora rotta. Però forse a guardare bene ce l'ha un pezzetto in più. Allora funziona. Il papà è capace di aggiustare la luna. Cecilia non vede l'ora che faccia buio per poter prendere un altro pezzetto luminoso. Papi, tu, alza, alza. Urla concitata, tirando il papà per una mano dopo cena e cercando di farlo sollevare dalla sedia. Una volta il giardino lui riempie d'acqua il secchio di rame, poi allunga il braccio e prende un altro puntino luminoso e lo appoggia con le dita a pelo d'acqua. Cecilia non fa tempo a vedere il puntino luminoso che cade ma vede l'acqua che si increspa e poi forse una piccola scintilla. Adesso guarda bambina mia. Il papà sposta il secchio in mezzo al giardino e... Cecilia non crede ai suoi occhi. C'è la luna dentro. Hai visto? È venuta a prendere il suo pezzettino. Ora entriamo. Non dobbiamo disturbarla. Il papà non solo sa aggiustare ma è anche capace di chiedere alla luna di entrare nel secchio. Cecilia fa un sacco di bellissimi sogni. Alle sei di sera la luna è più grande di ieri e decisamente più aggiustata nel giorno in cui Cecilia si accorta che qualcuno l'aveva rotta. Alle otte e mezza il papà prende le bolle di saponi e gli fa segno di seguire un giardino. Ma come? Il papà non vuole mai uscire a fare le bolle quando è buio e proprio stasera che le vuole aggiustare la luna gli viene in mente di andare a giocare. Cecilia vorrebbe dirglielo. Sembra così eccitato all'idea che lei non ha il coraggio di deluderlo. Così lo segue abbacchiata. Appena fuori il papà si gira e ne sorride. Si mette sulle punte e allunga il braccio più che può e per fortuna prende un altro pezzo di luna. lo fa cadere dentro lo sapone delle bolle. Estrà il bastoncino e gli dice soffia più forte che puoi piccola mia. Cecilia obbedisce l'etrezzata. Esce un'unica grande bolla che comincia a salire verso il cielo e quando passa sotto il lampione Cecilia è sicura di vedere un luccichio. Ora andiamo a dormire. Il pezzetto di luna nella bolla di sapone ci metterà tutta la notte per arrivare fin lassù. Il giorno dopo quando arrivano le sei Cecilia è davvero contenta. Luna fa passi da gigante ed ora oltre ad essere quasi intera ha un'aria decisamente più allegra. Stasera però il papà farà un po' tardi e Cecilia ha paura che non faranno in tempo ad occuparsi della luna. Alle nove però quando la bimba è già pronta per andare a letto il papà arriva ed è tutto sorridente. Ah più bello dice Cecilia mentre l'abbraccia. Sai piccola le dice lui mentre a piedi nudi escono in giardino. Questa sera il pezzetto di luna è venuta a cercarmi al lavoro e mi ha detto non ti sarai dimenticato di me. Allora io l'ho messo in questo vasetto di vetro e te l'ho portato. È la prima volta che Cecilia vede un pezzetto di luna da vicino ed è molto emozionata. Si accosta piano piano con soggezione e nei bicchiere vede una piccola luce come una minuscola lampadina. Forza togli il coperchio. Cecilia solleva il tappo e non batte il baleno il pezzetto di luce corre fuori. La bimba lo segue con lo sguardo finché non si perde nel blu. Il giorno dopo è domenica e mamma e papà la portano a fare nei campi. È preoccupata. Quando il papà e la mamma cominciano a camminare non si fermano più. E se non arrivassero a casa in tempo per aggiustare la luna? Così quando il papà se la rimette sulle spalle e dopo il pranzo sull'erba comincia a ripetere. Mamma papi viva a casa. Non preoccuparti piccola le dice la mamma. Siamo venuti in questi prati proprio per trovare un fiore speciale che ci servirà stasera per aggiustare la luna. Ma devono fare tantissima strada prima di trovarlo. Cecilia pensa che abbiano fatto almeno almeno un milione di chilometri. Ma alla fine ne verrà la pena perché la sera quando sono di nuovo nel loro prato e lei è così stanca che le si chiudono gli occhi, il papà prende quel fiore speciale, ci mette il pezzetto di luna e proprio come era successo con le bolle le dice soffia più forte che puoi piccola mia. Cecilia soffia fortissimo. Il fiore che prima era una palla bianca si divide in centinaia di piccoli batuffoli che volano in cielo e non di quelli di certo c'è il pezzetto di luna. Il sesto giorno alle sei Cecilia è contenta che luna sia quasi intera ma un po' le dispiace che il suo compito di infermiera stellare sta per finire. In più stasera c'è un po' di vento e Cecilia ha paura che il pezzetto di luna non riesca a volare fino in cielo. Ma il vento è nostro amico, le spiega il papà e dopo averla coperta bene con il cappuccio della feppa la porta al giardino. Guarda, gli dice mostrandole un sonaglino fatto con pezzetti di specchio. Osserva bene. Il papà lo agita fra le mani per qualche secondo ed ecco che all'improvviso si vede una scintilla, un lampo brillante e velocissimo. Preso, esulta il papà. Ora appendiamo il sonaglio a questo chiodino così la luna lo vedrà bene e potrà venire a prendersi anche questo pezzetto. Sai, bimba mia, le dice la mamma mentre le rimbocca le coperte, domani daremo alla luna, l'ultima sistemata e poi sarà di nuovo intera. Alle sei Cecilia guarda bene la luna, ma le sembra già intera. Basta luna, chiede al papà prendendogli il viso con entrambe le manine. Ancora un pezzetto, le risponde, baciandole la punta del naso. L'ultimo frammento, bimba mia, dispiera un attimo dopo. La luna lo vuole nel modo più dolce e più semplice possibile. Poi immerge un dito nel barattolo del miele e lo appoggia sulle labbra di Cecilia. Ora prendiamo l'ultimo pezzetto, dice il papà, e lo appoggiamo qui sulla tua bocca così il miele lo tiene appiccicato. Devi tenerlo lì qualche secondo, così si riempirà anche lui di miele e la luna, sentendo il profumo, lo verrà a cercare e sulla appiccicherà addosso. Cecilia è emozionatissima, ha un pezzetto di luna sulla bocca. Sta ferma, ferma per non farlo cadere e tiene la bocca chiusa per paura di mandarlo giù. Deve fare un'espressione proprio buffa perché il papà non riesce a trattenersi da ridere. Ok, ok, bimba mia, le dice. L'hai tenuta abbastanza, ora manda un bacio alla luna con tutta la forza che hai. Cecilia sa che tutto dipende da lei. Prenda il fiato, gonfia le guance, manda le labbra più fuori che può, chiude gli occhi fortissimo e... smac! Poi apre subito gli occhi e guarda la luna. Da molto lontano sento una voce che dice... Grazie! Hai sentito? È la luna! Dice il papà eccitato. È vero, pensa Cecilia. Non poteva essere che luna perché era una voce bellissima, dolce, proprio come quella di mamma. Grazie a tutti.